Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 28 febbraio e scopriamo subito le novità di PES 2019 e MyClub, anzi quasi subito, due cose molto rapide prima di cominciare. La prima, ho controllato le rose anche offline con l'ultimo aggiornamento di oggi, finalmente tutte le rose sono sistemate, ad esempio Mare Kamsik non è più al Napoli, fino alla settimana scorsa c'era ancora, adesso siamo finalmente allineati con il mondo reale. La seconda, come ogni giovedì si parte la mattina con gli aggiornamenti di PES, al pomeriggio c'è il TG Tech, oggi si vincono le bellissime, veramente oggetto di design, casse creative people che hanno vinto il premio come migliori casse di tutto il 2018 per il miglior rapporto qualità prezzo. Non mancate, andate su Facebook sulla pagina Creative Italia per scoprire la domanda alle 15 e alle 16 in diretta sul TG Tech, che si può sentire in FM in tutta l'Italia centrale, Lazio, Umbria, Abruzzo, altrimenti la potete sentire online o sulle app, tanto dovreste già sapere bene. È una buona occasione per vincere un bel premio, tutte le settimane vi premiamo con tante cose interessanti. Questa settimana è un premio che va bene per tutti, sia chi ha il PC, PS4, Xbox, chi non ha console, va bene per tutti. Va bene, allora, veniamo a MyClub. Ecco i giocatori, il risalto di questa settimana. Come vedete c'è molto Barcellona e c'è molto Arsenal perché ci sono gli agenti squadra. Poi c'è anche qualche altro giocatore, non di queste squadre, vedo Di Bala, della Juve e poi vediamo chi c'è, chi c'è, chi c'è. C'è Verratti del PSG, c'è Milik del Napoli, c'è De Olofeu, c'è Castiglieco del Milan, c'è il giocatore dell'Ajax Van de Beek ed altri. Però mi sembra che i giocatori più interessanti siano sicuramente quelli di Barcellona e di Arsenal, ma poi vedremo meglio. Allora, mi becco subito le 30 monete MyClub e andiamo oltre. Allora, questa settimana non ho giocato mai, vi dico molto la verità, perché sono stato preso da Antim, lo shooter di Electronic Arts, che a differenza di tutto il resto del mondo, a me sta piacendo tantissimo e domani su Italia Top Games potrete leggere la mia recensione. Voi state giocando questo gioco, vi sta piacendo o non vi sta piacendo? Mi farebbe piacere avere la vostra opinione, potete lasciarla nei commenti sotto il video o sotto il post su italiatopgames.it. Bene, allora, vediamo un po', ci sono due cose interessanti, ci sono, ah, ecco, queste sono le famose monete dell'Arsenal dell'altra volta, eccolo qui, quindi mi riprendo le mie 200 monete e qui ho la mia campagna MyClub, al solito Silver Level 1. Allora, vediamo gli agenti, subito, subito, vediamo che succede, vi dico subito che è tornato Maradona e c'è una nuova leggenda inedita giù lì. Allora, questo è un agente del pull da collezione che prende le leggende del campionato spagnolo ed in più tanti giocatori forti e attuali del campionato spagnolo attuale. E allora, eccolo qui, Maradona 97, Messi 94, Cruyff 92, Romario 91, Ronaldinho 91, Modric, Suarez, Kroskjö in squadra, Beckham, Oblak, Sergio Ramos, Griezmann, Roberto Carlos, Piquet, Marcelo, Bale, Benzema, Figo, Ter Stegen, Coutinho, Godin, Vidal, Sanchez, Diego Costa, Thiago, Alcantara, Boateng, Sergio Buschezzo, Zille e tanti altri. Beh, devo dire che non mi dispiacerebbe avere Maradona in squadra e quindi subito, subito, un giro di pull me lo faccio. Vediamo un po' cosa succede, to my club, allora sicuramente non è una leggenda, però andiamo in Spagna, vediamo cosa ci capita, un pallone d'oro, ecco qua, pescatina non troppo felice, però vediamo un po' di chi si tratta, Promes, Promes, giocatore che non conosco, 83, ESA, ma altro giocatore che farà panchino diventerà ESP, perché davanti ha ben altri giocatori, recupero la resistenza singolo, bene, vabbè facciamo un altro giro, vediamo se va meglio, leggendina, niente leggendina, maradonina, no, niente, niente, allora dove andiamo? Andiamo di nuovo in Spagna, speriamo una palla nera, almeno questa volta, niente, palla d'oro, giocatore del Barcellona, di chi si tratta? Malcom, ale, altro giocatore che farà panchina a vita nella mia squadra, Nolito e Oscar Plano, va bene, per il momento direi che può bastare così. Andiamo a vedere gli agenti speciali, allora, prima di tutto fatemi fare il mio girino di giocatore silver, non ho mai beccato una palla nera con questi agenti, ve lo dico subito, quindi per il calcolo delle probabilità oggi sarebbe pure possibile una palla nera, ma ci credo poco, neanche d'oro, tutto è argento, d'oro, d'oro, vediamo un po', un portiere, ah, Pepe Reina, che nonostante si è passato al Milan ancora, io adoro, peccato che trovi poco spazio, perché Donnarumma sta veramente facendo un grande campionato quest'anno, e comunque, Reina in regalo, me lo prendo molto volentieri. Allora, andiamo un attimo a vedere i giocatori che abbiamo, molte palle nere, però, eccoci qua, c'è Di Bala che cresce in finalizzazione, in controllo del corpo, in dribbling, Verratti puro 89, dribbling 92, passaggio alto 90, abilità difensiva 84, Mkhitaryan, cresce soprattutto, un po' in tutto, diciamo, tutti i due, due, cinque abilità offensiva, ok? Questo difensore cresce in recupero palla, Milik, finalizzazione 90, velocità 80, non lo leggo questo nome perché il francese non lo so, abilità difensiva 91, contatto fisico 96, però un DC da 86, Di Olofeo, ex Milan, velocità e potenza di rompente cresce, cresce un po' in tutto, Castiglieco, controllo palla 90, però parliamo di un 85, Vermeer, portiere, cresce in riflessi, cresce in copertura, cresce con abilità portiere, Vanderbeck, un trequartista, aumenta un po' di tutto, però 84, Eduard, potenza di rompente 92, finalizzazione 81, cresce un po' in tutto, però ragazzi c'è solo Di Bala sopra il 90 e l'ho già in versione normale come seconda punta con il mio 4-2-3-1, non serve tantissimo, io qui non giro, anche perché non ho poi neppure tantissime monete, vediamo un po' invece il Barcellona, 100% d'oro, Messi, ce l'ho già in versione Super Saiyan, abilità offensiva 97, controllo palla 99, dribbling 99, finalizzazione 99, insomma Messi, Suarez, abilità offensiva 99, finalizzazione 97, Piché, interessante, colpo di test 93, abilità offensiva 96, recupero palla 92, Piché mi piacerebbe molto come difensore centrale, Coutinho, controllo palla 95, dribbling 97, potenza di rompente 95, Ter Stegen, portiere 99, respinta 99, riflessi 99, niente male, ma anche lui ho già If, Rakitic, cresce in passaggio al 95, anche lui ce l'ho già, Jordi Alba, velocità 97, potenza di rompente 95, ho Robertson che vale 92, e Dembele, potenza di rompente 96, velocità 97, eh sì, è un agente molto interessante, però ho molti giocatori già del Barcellona, quindi voglio vedere un attimo anche l'Arsenal come chi ha, Obama Young 92, velocità 99, potenza di rompente 98, abilità offensiva 93, Ozil, dribbling 90, passaggio la sua terra 95, controllo del corpo 92, la casetta aumenta in finalizzazione, Leno 90, aumenta un po' tutte le caratteristiche del portiere, Mustafi 89, colpo di testa 92, abilità offensiva 93, recupero palla 93, Beyerino 88, velocità e potenza di rompente, va 99, niente male, Torreira già ce l'ho come mediano, interessante, abilità difensiva 92, recupero palla 92, controllo del corpo 94, e Guendouzi che aumenta un po' dappertutto, soprattutto il recupero palla 90. Allora, vi dico la verità, mi interessa più la gente del Barcellona, perché? Perché per chi vorrei tanto è Piché, un difensore centrale 92, è davvero interessante, Messi già ce l'ho, su Ars 94, ma ho Cristiano Ronaldo e Aguero, quindi mi farebbe super panchina, quindi io faccio un giro di agente Barcellona, sperando appunto di trovare Piché. Vediamo se i miei desideri diventeranno realtà o no. Ho una possibilità su 8, quindi all'incirca il 15%, anche meno. Allora, palla nera ci siamo, vediamo un po', non mi sembra Piché, mi piace Coutinho, o mi sbaglio? No, mi sa che è Suare, no, Jordi Alba, Jordi Alba, vediamo, terzino sinistro, 89, eh beh, o Robertson a 92, per carità, un gran bel giocatore, però sicuramente inferiore a Robertson, quantomeno forse perché è livellato l'Overson a 92. Mi informerò, comunque niente male, mi faccio un altro giro, mi faccio un altro giro perché vorrei tanto Piché, davvero, mi potrebbe fare la differenza. Vediamo come vanno le cose. Sarà una palla nera, sarà in Spagna, è facile pronosticare questo. Vediamo un po'. Ancora, quindi, vediamo, quel tatuaggio cosa ci dice? Non riesco, mi sa che è proprio Suarez. E beh, vabbè, accontentiamoci, accontentiamoci, Suarez 94, interessante. Quante? Chissà, vedremo se toglierà il posto a Cristiano Ronaldo ad Aguero. Comunque, bella pescata. Io volevo Piché, lo ripeto, lo ripeto e lo ribadisco, però accontentiamoci, accontentiamoci. Bene, allora, questi erano gli agenti speciali. Poi, diamo un'occhiata agli allenatori, anche se sappiamo che non è uguale per tutti, c'è Fernando Santos, 4132, Doron, Pavan, 4231, Laudrup, Etro, Gasperini e altri. Andiamo a vedere le challenge. Allora, sfide di oggi. E qui di nuovo sì. Allora, c'è la Pace League, avrete letto sicuramente. C'è la challenge online. Andiamo a scoprirla. One match challenge, dettagli e competizione. Allora, uno contro uno. Vinci la partita e abbiamo un giro di pool che ci piace, ci piace, e quindi la faremo questa settimana sicuramente. One match challenge. Io questa settimana, ecco, non ho giocato online, ma tutte le challenge contro com per prendere i giri di pool le ho fatte e come. Non ho giocato per classificato. Qui cosa abbiamo? Abbiamo tre challenge. Abbiamo quella con il Barcellona, e qui c'è di nuovo la gente speciale Silver che ci fa... E... Invece, qui c'è quella interessante. Vinci la partita. Ce ne sono tre, anche questa settimana. Infatti, vedete, la scadenza è domani, venerdì 1 marzo, alle 16. Quindi fatela assolutamente oggi. E qui, come al solito, c'è un bel giro di pool che ci interessa parecchio. Come avete visto, c'è Maradona, ci sono tanti giocatori, e quindi questa challenge io ve la consiglio, e ve la consiglio di fare tutte e tre le volte che ci sarà durante la settimana. Ne sono tre come le altre volte. Quindi è quasi tutto uguale rispetto alla settimana scorsa, solo che il pool riguarda il campionato spagnolo e non quello italiano. Allora, nell'insieme, pur non essendo molto originale come aggiornamento, comunque ci sono tre challenge contro com, c'è questo gente, c'è una nuova leggenda, c'è il ritorno di Maradona, nell'insieme, un 7, lo diamo a questo aggiornamento. Quindi per oggi è tutto per il video. Vi do appuntamento oggi pomeriggio con il TG Tech per vincere le casse Creative People. Andate su Facebook, sulla pagina Creative Italia, e poi in diretta alle 16 su Simpli Radio. 15 Creative Italia, 16 Simpli Radio per vincere. Grazie ancora per l'attenzione, aspetto i vostri commenti, anche su Antimma, come vi ho detto, e ovviamente sull'aggiornamento di oggi. Ciao e a presto!